18 gradi all'ora di pranzo di Pasquetta 2018 e il Poeto si riscopre la casa naturale ancora una volta dei Cagliaritani. Una Pasquetta low cost, quella scelta da molte persone, una passeggiata nel nuovo lungomare oppure anche diversamente in sfialgia, il tempo aiuta, c'è un vento leggerissimo però la pausa pranzo di molti Cagliaritani si conferma praticamente a chilometro zero, ovvero assolutamente snobatte le gite fuori porta, c'è solamente il Poeto da dover raggiungere in un lunedì dell'angelo dove i Pullman funzionano, la frequenza è quella dei giorni di festa e dunque in pochi minuti è possibile raggiungere la spiaggia dei centomila e potersi godere qualche ora di sole in una Pasquetta baciata appunto dal sole e solamente con un leggero vento che però non disturba assolutamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.